Bergamo è famosa per i formaggi perché è stato luogo di produzione da sempre, in quanto era area di transumanza, da lì passavano le pecore e quando poi dopo il 1000 con i benedettini ha iniziato la produzione di formaggi e di vacche, chiaramente le vacche caricavano il monte e poi riscendevano dal monte. Bergamo ha la maggior concentrazione di DOP a livello europeo, supera la Francia che ha in due regioni ben 6 DOP, ma una regione francese grande come Lombardia e Piemonte messi insieme. La piccola Bergamo ne ha ben 9, vediamo il Quartirolo, il Taleggio, il Formai de Mut, lo Strachitunt, il Gorgonzola, il Bitto, il Provolone Valpadana, il Salva, lo Strachitunt, il Formai de Mut, il Grana Padano, 9 DOP. E in questo progetto Forme fanno parte anche il Branzi, i Principi dell'Orobia col Branzi, i Caprini Bergamaschi perché i Caprini sono formaggi da noi fatti solo con capra orobica e anche tre presidi di Slow Food, lo Strachino all'Antica, la Grida di Valtorta e il Bitto Storico, che è diverso dal Bitto di OP in quanto è prodotto con una percentuale di latte Caprino molto più alta e ha un'alimentazione degli animali leggermente diversa.